Sono tanti, tantissimi. Se ci fai caso, li puoi incontrare ogni giorno. Sono indifesi e senza voce, ma il loro sguardo vale più di mille parole. Aiuta gli animali in difficoltà. Dona loro una nuova vita. Manda un SMS solidale al numero 45589, oppure chiama da rete fissa. È una campagna della Lega Italiana per la difesa degli animali e dell'ambiente. Grazie.